Sesto e ultimo giorno dei campionati italiani, che cosa ricorderete di questi giorni trascorsi qui a Riccione? Innanzitutto mi ha colpito molto la piscina anche come struttura ma anche come manifestazione, perché è anche il primo anno che ci vengo e mi è piaciuto molto. Risultati ottenuti, tempi migliorati, quali sono stati della squadra? Come squadra mi sembra che abbiamo fatto tutti abbastanza bene, abbiamo fatto tutti i nostri migliori. Voi siete della squadra? Maneto Banca-Montebelluna. Da domani come ricominceranno le giornate, quali saranno i prossimi traguardi e obiettivi? Io come obiettivo ho di cercare di andare ai campionati italiani a Roma estivi e come squadra di migliorarci. Qui a Riccione avete conosciuto altre squadre, come è stato il rapporto anche con gli avversari? Beh diciamo che c'è stato un clima molto amichevole e insomma facciamo facilmente amicizia e così insomma. Quindi vi siete trovati bene. Bene ragazzi vi facciamo un grosso in bocca al lupo e ce lo fate voi un saluto a Dolce Farnuoto tutti insieme. Ciao! Ciao! Grazie, in bocca al lupo. Grazie. 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 Grazie.